Cuneo Boves Porgo Sandalmazzo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto lanciare dal Piemonte una delle terre simbolo della resistenza e il suo messaggio di richiamo ai valori e ai principi della Costituzione in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile. La crisi suprema del Paese esigeva un momento risolutivo per una nuova idea di comunità dopo il fallimento della precedente, ha dichiarato il Capo dello Stato nel discorso pronunciato al Teatro Toselli di Cuneo. Si trattava di trasfondere nello Stato l'anima autentica della nazione, di dare vita a una nuova Italia, impegno e promessa realizzate in questi 75 anni di Costituzione Repubblicana, una Repubblica fondata sulla Costituzione figlia della lotta antifascista. Il discorso di Mattarella è stato più volte interrotto dagli applausi del pubblico in platea e nei palchi dove erano presenti anche 200 sindaci del Cuneese, oltre che i Ministri del Turismo, della Difesa e per gli Affari Regionali e le Autonomie. Successivamente il Capo dello Stato si è spostato a Borgo Sandalmazzo dove ha visitato il memoriale della deportazione costruito accanto alla stazione da cui partirono una serie di convogli diretti ad Auschwitz e infine. A Boves, teatro del primo ercidio nazista in Italia, dove morirono 25 persone e furono bruciate 350 abitazioni. La visita del Presidente della Repubblica in Piemonte è stato il fulcro delle celebrazioni per il 25 aprile che si sono chiuse in serata con il concerto gratuito di Vinicio Capossela, ha andato in scena l'auditorio Gringotto di Torino, tutto esaurito per l'occasione. Lo spettacolo, indicato alle staffette partigiane, durato oltre due ore, ha vissuto uno dei momenti più toccanti in avvio quando è salita sul palco la partigiana Nicoletta Suave. Il concerto di Capossela è stato solo una delle tante iniziative organizzate da città di Torino, Polo del Novecento e Consiglio regionale del Piemonte per il 78esimo anniversario della liberazione. Proprio al Polo del Novecento si è svolto il concerto Ezio Boss The Four Letters, una produzione originale ispirata alle lettere di quattro partigiani condannati a morte tra il 43 e il 44. Ad aprire lo spettacolo la lettura di una lettera inedita di un giovane condannato custodita nell'archivio di Istoreto è resa pubblica per l'occasione. Il senso è di partecipazione, ci teniamo tanto a sottolineare un aspetto, l'antifascismo, la memoria della seconda guerra mondiale, della nostra resistenza è patrimonio di tutti, non è patrimonio di una parte. Con questo spirito e con questo approccio abbiamo affrontato la costruzione di questo programma, questo è lo spunto iniziale per noi importante in questo momento oggi. Grazie. 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 Grazie.